È opportuno manifestare l'interesse della Santa Sede, questo strettamente è una riunione di chiese locali, chiese particolari, però evidentemente il fatto che il Papa arriverà domenica per stare insieme con i Vescovi, celebrare con i fedeli la Santa Messa, è una manifestazione perché il Papa ha solitudine per tutte le chiese e così noi come i suoi collaboratori della Santa Sede dobbiamo manifestare il stesso impegno. Ci sono rappresentanti da vari paesi, dalla Siria alla Libia, penso alle situazioni più incandescenti, qual è la responsabilità della chiesa in queste terre? La responsabilità della chiesa è di impegnarsi a bene del popolo, dei popoli di questo Mediterraneo, di contribuire a risolvere certi conflitti e di apportare una nuova speranza per questi paesi che si trovano in difficoltà. E per cui abbiamo tutto una risposta comune a cui dobbiamo anche esprimere una grande solidarietà. Credo che il Papa che torna a Bari, il Papa ha un grande affetto per la città di Bari, poi anche per il suo significato per tutto il mondo cristiano, è come un ponte tra il cristianesimo occidentale e quello orientale. E così è una città simbolica, come molte delle città in questa zona del Mediterraneo. E così è un posto perfetto per lanciare di nuovo un invito a tutti i cristiani a impegnarsi per il bene dell'umanità.